salve ragazzi oggi vi porto questo lavoro sto lavorando sulle prime 100 pagine di questo grandissimo tomo di pareison che riguarda la sviscerazione passo passo di tutta la filosofia fictiana un lavoro accuratissimo straordinario soprattutto per chi è interessato ad approfondire la filosofia idealista e in 100 pagine ci sta poca roba in un volume di più di 400 ci sta giusto l'introduzione e la prima parte che sto schematizzando in questo momento della certezza i problemi di fichte chiarimenti e spunti e poi siamo arrivati vi terrò aggiornati l'introduzione è stata davvero molto interessante fichte in quest'opera viene trattato cercando di sviscerarlo di toglierlo dalle mani di cante da un lato quindi di ridurlo a un continuatore della filosofia kantiana ma anche dall'altro vato di sradicarlo dalla interpretazione e dalla riduzione che ne fa Hegel